Le previsioni dei servizi sociali sono purtroppo rispettate. Tra il 2020 e il 2021 le richieste di aiuto economico giunte al comune di Varese da persone famiglie in difficoltà sono aumentate di un quarto, passando da 170 a 215. Una tendenza che, teme l'assessore Molinari, è destinata ad aggravarsi, complice l'impennata delle bollette dell'energia. Palazzo Estense, dice Chiaretondo, non può farcela da solo, perciò abbiamo riattivato il fondo di mutuo soccorso affinché i varesini possano contribuire direttamente a favore dei concittadini più deboli. Chiediamo ai nostri concittadini, di cui conosciamo la generosità, di adottare una bolletta, adottare cioè la possibilità di aiutarci a sostenere economicamente quelle famiglie, quei nuclei familiari che non sono in grado oggi di rispondere ai gravi aumenti che luce, acqua e gas, ma soprattutto gas e luce, si trovano a dover affrontare e si troveranno ad affrontare nei prossimi mesi anche per effetto della grave crisi internazionale che stiamo vivendo.